Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare l'incarico che vi richiede di parlare con Umbra al suo accampamento al Lagon of Whisper. Una località che fortunatamente è presente nella mappa, quindi potete facilmente trovarla. Andate qui sulla mappa e la località in questione è qui, davvero piccola piccola piccola, quindi rispetto alle altre isole è un puntino, vedete? Davvero piccola. Una volta che siete arrivati a destinazione vi basterà semplicemente parlare con Umbra. La trovate all'accampamento. Ora, essendo l'isola molto molto ma molto piccola, è facile trovare Umbra. Come vedete è qui ad aspettarci, quindi vi basterà semplicemente parlare con lei per completare l'incarico.